Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squadbuilder Sto portando un nuovo squadbuilder che ha la peculiarità di essere una squadra argento NDL Che significa No Dead Links e che significa che i giocatori, pur essendo comunque un'ibrida, non hanno link rossi tra di loro Un'ibrida composta da 4 campionati, 4 nazionalità diverse, non è stata facile farla Una buona squadra che bisogna saperci comunque giocare abbastanza bene E' composta da se non sbaglio 2 4 star skiller e 2 5 star skiller Quindi potete anche skillarci anche se vabbè io non sono portato per quello Quindi direi di cominciare subito con, impostando qualità argento Il portiere è Gonen, questo portiere turco del Besiktas Che è un buon portiere con delle ottime statistiche, soprattutto di velocità, riflessi E poi altre buone statistiche nel resto delle statistiche che ha Costa poco, è alto, un buon portiere davvero mi è piaciuto Se migliorasse forse un po' il piazzamento sarebbe decisamente più forte, ancora più forte Poi terzino destro io ho utilizzato, o pare, la versione del porto Perché lui si è anche trasferito, se non sbaglio proprio in Super League, quella turca Comunque è un ottimo giocatore, con doti di velocità veramente impressionanti Un discreto dribbling, difesa comunque non ha un valore altissimo Però con la sua velocità è molto, gli fa molto comodo per fare i recuperi Comunque poi ha un buon fisico, un buon valore di fisico, anche se non è altissimo I due centrali sono allora a destra, utilizzato, non è in questa pagina Questo qui, Akaminko, sembra un insulto Però comunque sia un ottimissimo giocatore Guardate che stats, sembra tipo il Silver Tiago Silva Perché ha delle stats veramente paurose Con un ottimo, ottimo valore di velocità, direi bestiale E comunque un rapporto difesa e fisico molto, molto alto Workrate perfetto per un difensore Prezzo bassissimo per un difensore da queste statistiche E comunque una discreta altezza Davvero un ottimo, ottimo giocatore che vi consiglio di provare Io lo sto utilizzando abbastanza e mi sto trovando sempre benissimo Compagno di reparto è anche lui ganese E gioca anche lui in Turk League, come si chiama E spero di trovarlo al più presto Questo qui, Boie, 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 vabbè Questo tizio qui che ha anche lui delle discrete statistiche Non le migliori ovviamente del gioco Ma comunque una buona velocità e un discreto valore di fisico E un accettabile valore di difesa Comunque sia, si comporta bene Acquistato per pochi crediti Paradossalmente di più rispetto al suo compagno di reparto Però comunque sia, è un buon giocatore Formano una buona coppia, entrambi E invece come terzino sinistro Ho utilizzato, se adesso lo trovo Ehm, dove, eccolo qui Baba, che è una difesa completamente ganese Me ne accorgo solo ora Baba, che non è quella di Dragon Ball Ma è un terzino sinistro dell'Augsburg Con delle discrete statistiche Una buona velocità Comunque sia, mi serviva più che altro per fare intesa Poi ci spostiamo al centrocampo L'unico giocatore che sta in mezzo è Spero di trovarlo al più presto Christian Che ha una capigliatura molto Marcelo o David Luiz È un gran giocatore Davvero, fa dei tiri assurdi Un long shot veramente pauroso Vedrete nelle clip se mi ha registrato il PBR Il gol che ha fatto È comunque un ottimo giocatore Certo, non ha una difesa tale Da poter reggere come un unico centrocampista Quindi fate un po' fatica Anche in fase difensiva subite abbastanza Però comunque sia, ci sta Anche perché tra l'altro ha work height basso di difesa Quindi difende veramente, veramente poco Però è l'unico giocatore che potevo utilizzare Per fare intesa Per non fare dead link Comunque sia, è veramente un buon giocatore Poi, esterno di destra Ho utilizzato Kelvin Che è fortissimo 5 stelle abilità 3 gol, un assist Davvero un buon giocatore Peccato che non abbia un tiro eccezionalissimamente E nemmeno il passaggio E peccato che non abbia una velocità Alta Cioè, quanto serve, diciamo, per questo gioco Però comunque sia divertente utilizzare Questo che importa Il prezzo ovviamente è risalente all'1 di novembre Quindi un po' vecchiotto Non so adesso quanto sta Poi, l'esterno di sinistra Ho utilizzato una bestia Dello scorso gioco Cioè, Kaiubi Questo brasiliano esterno sinistro Che l'anno scorso era veramente formidabile Quest'anno, vabbè, utilizzato da esterno Gli esterni contano un po' poco Quindi bisogna capire anche magari Se utilizzato da ala Se è più forte Comunque, un discreto giocatore Due assist in sette partite Ci stanno anche Poi, ci spostiamo sulla trequarti Troviamo come trequartista di destra Ho utilizzato Elton Altro ottimo giocatore Che purtroppo ha questo 49 di fisico Unito a 1,59 di altezza Che è veramente bassissimo Cioè, un anetto E quindi ha una Potete capire che ha una forza fisica Talmente bassa Che persino Giovinco Riuscirebbe a rubargli palla In un contrasto fisico Purtroppo questo è il suo Lato negativo Però comunque sia Un ottimo giocatore Un velocissimo Molta agilità Ottimo dribbling Un discreto tiro Comunque anche un buon passaggio Poi, il suo compagno Qui a sinistra Ha utilizzato Rogerigno Che è un po' più alto di Elton Una ventina di centimetri Ha un discreto tiro Anche se mi sembrava Forse un po' meno di 67 Perché mi ha sbagliato Tipo due gol a porta vuota Non so come Però, però È un discreto giocatore Due gol Due assist in sette partite Penso che sia abbastanza buona Come media Per un trequartista Che non costa troppissimo E comunque ha 4 stelle abilità E il giocatore In, diciamo Il più importante È Elkabir Che finalmente Sono riuscito a trovare sul mercato Perché lo stavo cercando da tempo Ma non si trovava Figuriamoci poi La sua versione If Grazie al Price range Che ha inserito la EA Comunque Elkabir è un gran 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 Attaccante Sempre in posizione Ottima velocità Gran dribbling 4 stelle abilità 4 stelle piede debole Ottimo tiro Ottima finalizzazione Ottimo fisico Con 6 gol all'attivo 4 assist Che sono tanti Per un attaccante In sette partite E quindi direi Che ci sta di brutto Volevo fare una squadra Anche con Elkabir If Ma non si trova purtroppo Sul mercato Anzi ne volevo fare Una anche con Melano If Un altro argento pauroso Che però non riesco a trovare Sul mercato Mio malgrado Comunque raga Questa è la squadra Non è una squadra Super competitiva Cioè Se dovete vincere Tante partite così Non ve la consiglio Piuttosto Molto divertente Quindi utilizzatela Fatela per divertirvi Che tanto non fa mai male Vi invito come sempre A lasciare un bel like Trecetto mi piace Uscirà una nuova squadra Un nuovo video Fatemi sapere nei commenti Se vi piace Qualche squadra che mi consigliate O qualche giocatore Che volete che io utilizzi In qualche squadra particolare Fatemelo sapere nei commenti Che io Come sempre Ci penserò E poi vi farò sapere E iscrivetevi al canale Pagina Facebook Twitter Instagram Tutti i link Come sempre li trovate In descrizione Noi ci vediamo Al prossimo video Adesso vi lascio l'eclipo Bella raga Ciao Ciao